Un sacco a pelo sospetto ad agiato un albero su un marciapiede in via De Gasperi ad Avellino intorno alle 16 di oggi ha fatto scattare l'allarme. A notarlo è stata una pattuglia della Guardia di Finanza mentre percorreva la strada a pochi metri dal comando delle fiamme gialle. Il livello di attenzione si è alzato anche per la presenza nella zona di alcuni obiettivi sensibili. In un clima di tensione provocato dalla crisi sociale sono state quindi adottate tutte le misure di sicurezza e controllo necessarie in caso di avvistamenti ritenuti sospetti. Sul posto oltre ai militari della Guardia di Finanza, agli agenti delle volanti di polizia e personale della municipale. In attesa delle verifiche l'area dove era appoggiato il sacco a pelo è stata circoscritta. L'allarme è rientrato alle 18.30 circa solo dopo l'intervento degli artificieri della questura di Napoli quando i militari hanno accertato che nel sacco verranno conservati solo indumenti ed effetti personali. Resta il rebus sulla presenza del sacco a pelo appoggiato per terra. Secondo i primi accertamenti potrebbe appartenere a uno dei sei profughi afghani intercettati in tarda mattinata nei pressi di piazza d'armi dagli agenti della squadra volanti. Alcuni di loro infatti portavano sulle spalle lo stesso modello di sacco che nel pomeriggio ha fatto scattare l'allerta della task force.